Professore Schettino, prima il dottor Muto ci diceva molto dipende anche dalla scena internazionale, quindi da un'economia che chiaramente viene in qualche modo modificata e condizionata, ma in che modo questo succede? Perché noi ci ritroviamo in questi rincani? Partiamo anche da alcuni elementi importanti, quindi quelli che sono le tasse nazionali, le accise regionali, per esempio la benzina, il caro benzina, per esempio noi a Napoli in Campania paghiamo la tangenziale, sembra una sciocchezza che è quella che aumenta sempre, ma come tutto questo e da cosa soprattutto viene condizionato l'aumento che poi ci ritroviamo in tasca, o meglio che non ci ritroviamo più in tasca? Secondo me è corretto rivolgersi al problema dell'inflazione con un'ottica distributiva, non tutti ci rimettono quando aumentano i prezzi, questo è fondamentale perché l'ultima pubblicazione dell'Oxfam dimostra come i più ricchi, di quelli veramente più ricchi dalla pandemia in poi, quindi dal 2020 in poi, sono riusciti ad accumulare patrimoni per 14 milioni di dollari all'ora. Oddio! Io ho difficoltà a capire quanti siano 14 milioni, non al giorno, non al mese, non alla settimana, all'ora. Quando aumentano i prezzi c'è un trasferimento di risorse da qualcuno a qualcun altro. Quindi ovviamente non è un'economia che si perde, è un'economia che si ridistribuisce. Che trasferisce. Ecco. Ed è fondamentale vedere questo perché, come dicevate voi prima, le merci che sono state più colpite, che vengono mal rappresentate dagli indici statistici, sono quelle maggiormente consumate da chi è più povero. Non è un caso che dinanzi a questa tassa occulta, molti la chiamano, dell'inflazione sui poveri, si generino forme di povertà in incremento. Parliamo di 2 milioni di famiglie in Italia, parliamo di 1 milione e 300 mila minori che non riescono a consumare tre pasti al giorno. Non stiamo parlando del Congo, parlo dell'Italia, di uno dei paesi più alti nel ranking internazionale. Dunque, l'inflazione non fa male a tutti. E evidentemente qualcuno ci gode. E quindi, qual è il secondo movimento di questa storia? Delle diseguaglianze che crescono in maniera impressionante. E l'altro problema enorme, l'accennava l'altro ospite precedentemente, è che lo Stato ha delle enormi difficoltà a riconoscere, come l'Eurostat ha detto, che questa è un'inflazione da profitti, e invece di proporre quello che c'è scritto in Costituzione, cioè l'adeguamento di un sistema fiscale a criteri di progressività, e quindi chi ha più paga, parla di flat tax, parla di sgravi fiscali a chi? A le imprese che già hanno una flat tax in gran parte. E quindi è evidente che c'è una distorsione. Professor Schettino, prima lei ci parlava ovviamente, prima ci hanno anche accennato i nostri ospiti a tutta una serie di tasse che noi paghiamo, lei ci ha parlato di una tasse, anche un elemento che incide tantissimo, che è quello dell'inflazione. Però anche qui noi parliamo di stangate, ma effettivamente tutti questi elementi incidono così tanto, o c'è il famoso nucleo? Allora, buttiamola lì rispetto a quello che abbiamo citato, che è il famoso Covid. Tutti gli aumenti del Covid, magari non tutti erano aumenti giustificati, molti sono stati aumenti su cui si è lucrato, di cui ci si è approfittati, mettiamola così, ma è per il Covid, vabbè, sono gli aumenti del Covid, aumentano tutto. Ma rispetto ad una, come dire, una performance proprio economica, quanto effettivamente tanti rincari sono giustificati e quanto, lei prima diceva, l'inflazione è un profitto per qualcuno, ma quanto poi questi rincari sono effettivamente giustificati e giustificabili? Il discorso di giustificare un rincaro o meno è un po' una scelta di campo. Se io devo pagare in quanto consumatore, in quanto salariato, per me è qualcosa di evidentemente negativo, perché io pago di più qualcosa che prima pagavo di meno. Se qualcuno riesce a guadagnare di più, perché aumenta i prezzi, è qualcosa che va a suo vantaggio. E' un discorso molto banale. Poi parliamo anche di rincarmi, la bolletta della luce, piuttosto che l'RC auto, piuttosto che la benzina, piuttosto che tutta una serie di elementi. Ad esempio, c'è stato lo sparacchio, che poi è stato reale, delle bollette di luce e gas aumentate vertiginosamente per la guerra in Ucraina, così come gli alimenti, eccetera. Ma era qualcosa che effettivamente era collegato, cioè nel senso in che modo? Lo diciamo in maniera anche abbastanza banale. Poi tutti questi rincari sono stati giustificati da una situazione politica economica internazionale. Guardi, faccio una battuta. Dove porto mio figlio in piscina c'è un bar. Sono andato a prendere il caffè, gli ho chiesto quanto viene? 1,20 euro. Io chiedi, è aumentato. C'è la guerra, ma risposta. Ma in Brasile, non ci siamo accorti. Non viene da lì il caffè. C'è la guerra. Ormai tutti quanti un po' tendono a aumentare il prezzo con la giustificazione, era ironico ovviamente, un lavoratore dipendente. Però il fatto di esserci sganciati dalla Russia, avendo tagliato i ponti, indipendentemente dalla guerra e dalla situazione politica, faccio un discorso esclusivamente economico. E quindi tutto l'approvvigionamento di risorse che veniva a prezzi convenienti, diciamolo, e adesso prendendo gran parte del gas dall'Algeria e dagli Stati Uniti d'America, da una parte ha risollevato l'economia degli Stati Uniti d'America, perché questo bisogna dirlo, dall'altro a noi c'è inginocchiato. La Germania è in crisi. Secondo voi perché è in crisi la Germania? Che è una potenza. La locomotiva dell'Europa. Perché è andata in crisi? Perché evidentemente, chiuso il Nord Stream, scelta di natura politica, è evidente che tutto il costo gli si è riversato addosso. Quindi c'è sempre un vincente in questo tipo di discorsi. Non è mai, diciamo, un gioco più o meno a somma zero. Non siamo in recessione tutti. Ah, ok. Questo è già un fatto. Ma quello che lei ci diceva anche nel piccolo, cioè magari l'operario, lo stipendiato, il monoreddito, è quello che effettivamente paga lo scopo. C'è un problema di salari. La parola che non abbiamo ancora pronunciato qui è la parola salario. Salario sociale, che significa busta paga. Siamo l'unico paese che da anni ha inchiodate le retribuzioni dei lavoratori dipendenti più o meno allo 0% con l'inflazione che ne stiamo parlando. Sappiamo quanto è esplosa. Abbiamo avuto un'inversione abbastanza significativa della quota salari-profitti dagli anni 60-70. Tutto a favore dei profitti. E d'altra parte i profitti sono cresciuti proporzionalmente. Ma se la torta è la stessa e qualcuno prende di meno, guarda un po' che qualcuno altro prenderà di più. Questo è anche mio figlio che è piccolo, lo capisci. Non serve un professor. Se la coperta è corta, tagli da un lato, dirgli da un lato. Ci sono questioni internazionali, ma anche le scelte di operare in una direzione o in un'altra, di aumentare gli investimenti sulla sanità pubblica, ma al contempo di chiamare i medici cubani. Sapete che noi abbiamo i medici cubani in Calabria. L'Italia è abbastanza alta nel ranking internazionale. Cuba è una realtà che conosco bene, ma abbiamo fatto anche degli accordi tra l'altro con l'Università dell'Havana. Però di certo non è un paese ricco. È ricco di umanità, è ricco di professionalità. E esporta medici. Questa è una cosa bellissima, voglio dirlo. Perché è l'unico paese che non esporta armi, ma esporta medici. Ed è, secondo me, una cosa straordinaria. Però noi siamo stati costretti, anche durante il Covid, se vi ricordate, a importare medici perché non ne avevamo. Abbiamo l'università con il numero chiuso, però non abbiamo chi sta negli ospedali a curarci. Che, secondo me, è una delle cose che rappresenta la nostra civiltà. Se tu hai la possibilità di curarti, sei in un posto civile. Se non ce l'hai, non sei in un posto civile.